In questo momento Gavioli viene messo giù e c'è calcio di rigore, praticamente a tempo scaduto, il fallo forse è di Marilungo, fino all'ultimo Gavioli ha voluto, come è giusto che sia, dare tutto. Ha mandato nettamente in difficoltà la difesa della Pro Sesto, è a tempo scaduto adesso allora, vedremo la battuta del calcio di rigore, c'è già Cicconi sul pallone per sigillare con il gol il proprio esordio in maglia arenate e permettere di scatenare ulteriormente la festa del arenate. Anche perché probabilmente dopo la battuta del calcio di rigore ci sarà il fischio finale, Cicconi contro Del Frate, parte il numero 23, conclusione centrale con sinistro, 4 a 1 e triplice fischio.